Si terrà mercoledì prossimo il primo consiglio comunale a Bellizzi dopo le elezioni del 26 maggio, vinte da Mimmo Volpe, eletto sindaco per la quarta volta in assoluto e per la seconda volta consecutiva. Durante la seduta il primo cittadino presenterà i membri della nuova giunta e gli indirizzi generali di governo. L'Assemblea sarà anche chiamata ad eleggere il presidente e il vicepresidente del Consiglio, oltre che i membri della Commissione elettorale e della Commissione Cultura e Spettacolo.